Fondata da Andrea Pais nel 1949, nasce la rivista Antincendio. 70 anni di informazione, approfondimenti, prodotti e tecnologie innovative. Abbiamo anticipato normative e propositi. Tante le tappe che hanno reso più sicuro il mondo dell'antincendio. E noi ve le abbiamo raccontate tutte. Ha invitato al confronto unendo parti contrapposte. Ha nutrito progetti e iniziative, creando eventi unici. Dal Forum di Prevenzione Incendi al Safety Expo. Una storia iniziata 70 anni fa e che continua al vostro fianco. Grazie di esserci stati e di aver contribuito a questo successo.